Riparte da Lombardia e Piemonte la stagione italiana della Vini Zabu KTM, che il 3 e il 5 agosto sarà impegnata nelle grande trittico Lombardo e nella Milano-Torino. Sette corridori selezionati dai direttori sportivi Luca Moriello e Luca Scinto per il doppio appuntamento con Giovanni Visconti nel ruolo di capitano supportato da una squadra tutta italiana che inizierà la rincorsa verso il campionato nazionale su strada del 23 agosto. A ribadire l'importanza di questo ciclo di corse le parole di Luca Scinto. Con il trittico Lombardo e la Milano-Torino diamo il via alla grande stagione delle corse italiane. Sarà emozionante dopo tutto ciò che abbiamo passato in questi mesi. Abbiamo deciso di portare per queste due corse un gruppo di corridori con i quali abbiamo lavorato duramente in Toscana e speriamo di iniziare con dei buoni risultati che ci diano morale per i grandi appuntamenti di agosto che culmineranno con il campionato italiano. La squadra è unita e motivata attorno al suo capitano Giovanni Visconti ma in questi giorni ho visto buone cose da parte di tutti. Tante le carte da giocare con i corridori veloci come Umberto Marengo e Lorenzo Rota o abili in salita come Lorenzo Fortunato e Andrea Garosio. Completano la selezione l'esperienza di Marco Frapporti e la gioventù del neoprofessionista Alessandro Iacchi.